13 giornate di apertura, 5 weekend davvero intensi per questa ventesima edizione dei Mercatini Natale. Non ci resta che dire un vero successo. Un successone, davvero un grande successo. Siamo contentissimi, soddisfatti. Infatti un grande ringraziamento a quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa edizione. Ovviamente a tutti gli espositori presenti, ma un grande grazie a Vise Presolana. Ecco, le persone presenti sono state davvero tantissime. Fin dal primo weekend abbiamo avuto numeri da paura. Quindi in totale abbiamo stimato più di 90.000 persone che hanno visitato i nostri mercatini di Natale. Anche la Casa di Babbo Natale ha fatto il pieno. La Casa di Babbo Natale ha fatto il botto. Abbiamo avuto tantissimi, tantissimi ingressi. Adesso non so dirti il numero esatto, ma sono davvero un numero incredibile. I mercatini di Natale a Casa di Babbo Natale sono davvero cresciuti negli anni. Ecco, a testimonianza di questi mercatini, come hai detto, abbiamo avuto una grande persona, un grande giornalista. Insomma, non ci sono aggettivi abbastanza grandi per definirlo. Vincenzo Mollica che ci ha fatto questo grande regalo per inaugurare insieme a noi questa edizione così speciale. E a seguire sono davvero state comunque diverse le persone anche che non sapevamo che sono venuti comunque a visitare i nostri mercatini. Abbiamo scoperto attraverso i social, attraverso i loro post che taggavano comunque a visi Presolana e abbiamo scoperto la loro presenza in mezzo a noi. Quindi siamo davvero contentissimi. E questa sera la consegna degli attestati a tutti gli espositori e tutti i volontari. Vuoi ricordarci un po' quante persone hanno lavorato dietro questo evento e soprattutto quanti espositori si sono un po' susseguiti in queste giornate? Allora, gli espositori che si sono susseguiti in queste 13 giornate, in questi 5 weekend con il Ponte Lunco dell'Immacolata sono comunque una 40-45, adesso il numero esatto in questo momento non lo ricordo, ma mi pare 45 nelle 30 casette presenti di legno sul piazzale Donizetti e le persone che hanno lavorato ed hanno aiutato fin da mesi, insomma, si inizia comunque il lavoro dei mercatini, inizia mesi prima, sono davvero tante, comprese alcune associazioni che hanno comunque aiutato visi Presolana, ma fortunatamente sono tante, sempre poche, perché ecco, ci auguriamo che sempre più persone comunque aiutino e sostengano visi Presolana, il suo presidente, nell'allestire e nel preparare eventi come i mercatini di Natale, ma iniziative che comunque ci sono sempre a Cassione durante l'anno, l'estate e soprattutto nell'imminente Natale e festività natalizie. Di certo adesso si riparte per l'organizzazione dei mercatini di Natale 2023. Certo, già quest'anno, insomma, visto come è andata bene l'edizione, tutti gli espositori, o comunque la maggior parte, ha già fatto sapere che ci sarà e vorrà esserci anche l'anno prossimo, quindi questo fa ben sperare che potrà essere anche la prossima un'edizione, insomma, così partecipata da tutti.